Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Esther della struttura di attività nuoto settore nuoto sincronizzato in diretta da Forlì si procede con il can sedicesimo campionato estivo di nuoto sincronizzato siamo al termine della sessione delle gare mini combo medium tra poco si esibiranno le ragazze della categoria maxi in acqua a breve vedremo le atlete della società Sogese in questo momento i giudici stanno votando stiamo procedendo alle votazioni con la nuova tecnologia dei tablet che sta funzionando alla grande grazie a tutti 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 grazie a tutti